Grande preoccupazione tra gli ovicoltori pugliesi a causa dell'avanzamento della sputacchina, vettore del batterio xylella che punge la pianta per succhiarne la linfa, infettando facilmente quelle circostanti. La batteriosi finora non aveva interessato la zona di Ostuni, Brindisi, da quando era scoppiata l'emergenza xylella in Salento. In questi giorni però è stato individuato a Rosa Marina un olivo infetto nei pressi di una stazione di carburanti che dista circa 40 chilometri dal focolaio Salentino più a nord. Questo nuovo centro infettivo è a poca distanza dal confine tra le province di Brindisi e Bari, territorio particolarmente ricco di olivi e questo preoccupa i coltivatori che sperano in un tempestivo intervento capace di arrestare il batterio.